L'Università Europea del Design di Pescara presenta Usnext Fashion Designer, il debutto degli stilisti emergenti dell'anno accademico 2022-2023 del corso triennale di fashion design, coordinato dalla responsabile di dipartimento Angela Di Girolamo. L'appuntamento all'Aurum di Pescara ha visto nell'arco della mattinata la presentazione da parte delle 18 stiliste emergenti della propria collezione al corpo docenti e ai commissari di tesi, con un focus particolare sul concept, brand identity e tecniche di realizzazione dei capi. Dalle 21 di questa sera poi le collezioni prenderanno vita nel piazzale Michelucci all'Aurum di Pescara, dove una giuria di designer e professionisti del settore selezionerà cinque stilisti emergenti che sfileranno alla Wed Fashion Night 2023 per concorrere al titolo di miglior stilista emergente anno 2022-2023. Saranno, diciamo, votate le migliori cinque collezioni sotto punti di vista anche commerciali, non soltanto una questione di estetica, anche come concept creativi e sfileranno poi il 28 luglio in un altro evento, uno show un po' più, diciamo, scenografico, che è proprio un evento, una festa della Wed ed è la 22esima edizione, quella che si farà il 28 luglio. Oggi in realtà è una discussione di tesi, quindi gli studenti si mettono sul mercato del lavoro, in commissione di tesi ci sono anche degli esperti del settore, anche aziende, che vengono qui proprio con lo scopo di osservare nuovi talenti e avere magari qualche scelta già per i propri organici, per cui oltre che la classica discussione in realtà è proprio un trampolino di lancio per gli studenti.